salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco ci siamo ci siamo ovviamente vi faccio vedere al solito le info sono uscite nuove info nel frattempo allora partiamo subito con quella che ci interessa di più boom eccoci qua batch dell'evento di bash uscita ufficialmente quindi x plus di van x plus di bash e sera ovviamente con 15 e 35 direi personaggi interessanti che consiglierei comunque di prendere soprattutto a sera che non è male certo con l'ex è decisamente più forte però successivamente banner dell'evento eccolo qui dove appunto si potrà ottenere una 15 e l'armatura e poi delle nuove novità probabilmente sarà cosa il vestito di van in offerta esatto immaginavo e poi che cos'è sta cosa forse sono le nuove eretics dal 29.3 sì saranno le nuove eretics queste fatte in maniera guarda che bello fighissimo e poi le offerte delle gem ovviamente in sconto con tutto con tutto ciò che vi serve ovvero armor token eccetera 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 ma aspettate che c'era anche una ecco una reward solitamente le le free multi solitamente le free multi non ve le ho fatte vedere mai perché comunque parliamoci chiaro una free multi è inutile registrare cioè nelle altre negli altri banner ho fatto le free multi ma ovviamente non mi è uscito niente qua è diverso qua è diverso perché adesso andiamo a cercare bash per cui abbiamo per il momento 37 ticket più la free multi per cui vediamo innanzitutto la free multi che cosa ci dà e poi andiamo giù di ticket non sto contando quindi non ho visto a che punto siamo arrivati però vedo troppe la 35 di sera da free multi direi non è malvagia però avrei voluto forse qualcosina in più allora andiamo giù di ticket prima perché a me tecnicamente servirebbe soltanto la ex di bash perché poi 15 e 35 posso anche prenderli con i red token per cui andiamo vediamo se i ticket i ticket ci daranno fortuna è buono il fatto che trovo comunque anche altre armi perché le power stone mi servono qua purtroppo per me a parte le armi di bash sarà tutto power stone ovviamente il fatto che ci sia la doppia ex è un'incognita non indifferente attenzione orb argentata è ovviamente bellissimo trollino come sempre abbiamo 42 mila gemme per cui direi che come che come bottino non sono male però diciamo che il nostro obiettivo è la ex di bash perché tutte le altre armi sono sono power stone neanche 15 e 35 di bash stiamo riuscendo a vedere per il momento potrò ottenere ovviamente altri ticket dopo perché ci saranno le ricompense del multiplayer le ricompense degli eventi quindi diciamo che ancora è un caricamento più lungo vediamo niente sono io che mi faccio i film figliette che non stanno andando alla grande c'è una sola dorata che già avevo tra l'altro ultimi due ticket eh un'altra 15 di van per cui due dorate che già avevo eh ticket non non bellissimi giù la prima multi eh almeno una 15 di bash ce l'abbiamo non benissimo però vabbè giù un'altra multi tutto è monoro un'altra un'altra 15 cioè una multi uguale identica poi monoro cioè bruttissima va bene andiamo avanti madonna madonna tutto è monoro la ex di van porca miseria la ex di van che però già abbiamo ecco il rischio del doppio banner è esattamente questo allora direi di fare altre altre massimo due multi dopodiché andrò a prendere i ticket dal multiplayer e useremo quelli 35 ok almeno abbiamo la 35 di bash a meno abbiamo la 35 di bash per cui ultima multi per il momento e poi mi vado a prendere le ricompense del multiplayer comunque un'altra monoro mi sa non ci credo un'altra ex di van non ci credo allora andiamo a 12.000 gem l'ultima è almeno grigia e poi mi prendo i ticket nel multiplayer what beh tutte powerstone perché ovviamente queste sono tutte powerstone va bene prendiamoci una pausa proprio disastrose queste multi vado a prendermi le ricompense del multiplayer e dopo magari proveremo l'altra sorte a tra poco eccoci qua dopo una piccola sessione di farming tra virgolette di multiplayer abbiamo nuovamente 36 ticket c'è da dire che ancora dovrei farmare le board di bash quindi riuscirò ad arrivare anche ad altre 15.000 gem in totale per poter fare delle multi però ovviamente qui per dovere tra virgolette di cronaca e di video per non farlo neanche durare troppo ci limiteremo al massimo a pullare questi ticket e le ultime gem che rimangono tutto quello che farò poi off camera ovviamente verrà documentato in un video a parte in caso cominciamo altri 36 ticket per per sperare la ex di bash mi andrebbe bene anche qua nei ticket mi andrebbe benissimo non deve essere così timida anche se ovviamente con la doppia ex avete visto qual è il rischio ovvero quella di ritrovarsi l'altra ex anziché quella che si sta cercando io purtroppo l'ho detto questo è un banner che per me era abbastanza proibitivo perché comunque ossia sera van completi tra l'altro per cui pullare era un po' controproducente non me ne vento perché bash è un personaggio che mi piace anche perché se dovessero arrivare in futuro delle caos come quelle che ci sono appena state delle beta caos come le beta caos avere un altro personaggio che ha un ruolo ben o male simile a quello di wall sicuramente aiuta gli aiuta tantissimo per cui avercelo in squadra capite benissimo che serve c'è poco da dire serve alta 35 di van che però ovviamente va a powerstone che tra l'altro non mi dispiace perché comunque è anche una scusa per per fare powerstone questa dato che comunque è altra 15 dato che comunque io powerstone sono abbastanza carente al momento diciamo che questa potrebbe essere una scusa per fare powerstone tra l'altro ancora ho da prendere i biglietti poi per il completamento della ex della cosmos quelli della summon board quindi diciamo che ancora qualche cosina c'è però ovviamente andiamo incontro ad una disfatta totale ultimi quattro ticket ma poi neanche altre armi di bash dici sai la 35 15 niente di bash proprio vuole dare nulla va bene va bene ormai direi che possiamo anche andare all in come si suol dire non c'è stato neanche un caricamento qui proprio zero non trovo niente trovo una sola oro tra l'altro non so neanche oh una 35 almeno oh 2 35 di bash 2 35 di bash non 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 è male non è male non è male andiamo ancora ultima multi dai un altro monoro che ovviamente è una powerstone va 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 bene siamo arrivati a 180 pt token cioè siamo quasi siamo quasi al pt cioè siamo veramente assurdo assurdo siamo vicini quasi alla mia prima pt weapon anche se ancora la strada è lunga e non credo di riuscire ad arrivare al pt almeno farmando in maniera tra virgolette regolare però vediamo ancora vado a farmi adesso le x la cosmos le registro così prendo anche quei ticket e li pullo e poi successivamente farò le board per bash almeno per il momento le farò soltanto fino alle ricompense quindi non andrò oltre se bash non trovo la x perché anche se ho 15 e 35 è abbastanza inutile serve la x è la x plus proprio per cui direi che per il momento possa essere tutto spero che a voi ovviamente sia andata decisamente meglio una disfatta totale però non demordo vediamo cosa riesco ad ottenere e poi faremo le somme quindi grazie ancora e alla prossima